Domenica si corre ad Aragona, la Corri Aragona, come è articolata questa gara? Allora, siamo all'undicesima edizione della Corri Aragona, la partenza è prevista per le 9.30, di fronte al comune di Aragona e al municipio, partirà da via Roma per salire via Garibaldi, poi scendere da via Mazzini, passare in piazza Umberto e riscendere dal corso. Questo percorso sarà ripetuto per quattro volte per arrivare a un totale di 7 chilometri, 7,2 chilometri. Iscrizione ancora aperta? Iscrizione aperta fino a domani sera, giovedì. Quali sono i titoli in palio? Allora, abbiamo, a parte il primo e la prima assoluta, i premiati saranno i primi tre per ogni categoria, circa 10 categorie, sia femminili che maschili, ci sarà premiato il più giovane e il più anziano degli atleti, poi ovviamente ci sarà anche tra noi dell'Associazione Amatore Aragona il premio per il primo dell'Associazione. Io ci tengo a ringraziare già da ora l'amministrazione comunale, la polizia municipale, i carabinieri, tutti i volontari che si sono veramente prodigati e si prodigheranno domenica a garantire un po' la sicurezza urbana. Poi abbiamo anche all'interno dell'Associazione le mogli, i figli che si adopereranno per il ristoro, per il ristoro dell'acqua lungo il percorso e ovviamente tutte le aziende che hanno collaborato economicamente alla riuscita di questa manifestazione. Sotto l'aspetto agonistico quali sono le insidie del percorso e quanti sono i chilometri da percorrere? Allora, i chilometri come dicevo sono circa 7 chilometri, 7 chilometri e 2. Le insidie, il percorso è un po' variabile, si parte a scendere, chiamiamolo così, poi si risale lungo la via Roma, si fa il percorso di Piazza Umberto e poi si riscende da via Garibaldi fino alla via Roma, quindi diciamo che c'è un bel tratto di discesa. Questo non deve trarre in inganno ovviamente gli atleti che lo sanno meglio di me, la troppa discesa poi porta sempre dietro a una salita, però è un bel percorso ecco. Ci sono dei favoriti? Ma guarda, visto che fa parte del Gambri provinciale di Agrigento ormai sappiamo chi sono un po' gli atleti forti della comitiva. Diego Sanfilippo e Antonio Puccio sono i favoriti al maschile e mi dicono Luana Russo che verrà a partecipare di Sciacca quindi sarà la favorita ed è una delle favorite ovviamente. e poi c'è tutto un bel gruppo di associazioni che dalla provincia verranno qui ad Aragona per onorarci della loro presenza. Assessore Angelo Galluzzo, cosa rappresenta per Aragona la Corri Aragona che si correrà domenica? Allora, l'undicesima edizione della Corri Aragona per Aragona, per la nostra cittadina è l'occasione per promuovere il territorio, fra l'altro verranno tantissimi partecipanti il percorso quest'anno si drama lungo il centro storico di Aragona quindi veramente è un bel momento per tutti gli sportivi, per tutti i cittadini invito tutta la cittadinanza a partecipare e a vedere questa gara agonistica. mi corre l'occasione per ringraziare gli organizzatori Giuseppe Collura che è il presidente e Nino Vaccarello che diciamo che è la memoria storica di Corri Aragona al quale sono legato tantissimo. Fatica, sudore, agonismo ma anche tanta promozione del territorio. Sicuramente, infatti ogni attività sportiva, in particolare la Corri Aragona è il modo per far vedere le nostre bellezze cittadine del nostro paese e quindi veramente invito tutti a venire ad Aragona.